ciao a tutti ragazzi oggi è il 21 giugno fuori c'è un tempo un po schifoso quindi vi porto con me alla craft e kilt fair eccoci all'interno della fiera la fiera si trova a glebe island il biglietto costa 18 dollari se lo fate l'ingresso ma se fate come me e lo fate online potete risparmiare un dollaro la fiera si svolge in diverse città sia in australia che nuova zelanda e durante tutto l'anno e se siete interessati trovate il link al sito in descrizione per poter controllare se volete andarci lo spazio è molto grande e comprende numerosi espositori da cui potete acquistare materiali utili a prezzi scontati rispetto a quelli dei negozi c'è anche la possibilità di partecipare a numerosi workshop alcuni gratuiti e altri a pagamento inoltre potrete ammirare i lavori di kilting in concorso e credetemi alcuni sono davvero spettacolari personalmente la fiera mi ha un po deluso perché è molto incentrata sul kilting che sarebbe l'arte di confezionare le trapunte fatte a patchwork e purtroppo per quanto riguarda le altre tecniche artigianali non c'è granché in ogni caso se siete particolarmente interessati agli oggetti creati manualmente e soprattutto al kilting non dovete perdervi assolutamente questa fiera grazie per aver guardato questo video se ti è piaciuto metti un pollice in su ti ricordo che in descrizione trovi tutti i link ai miei social e iscriviti al canale ciao